guardate che è pulito ma non c'è un mascolo più pulito ma manco sono girati tutta sicilia e tutta tutta catania tutta italia tutta amore buongiorno chi ti ha insegnato a essere così pulito chi ti ha tua mamma pulita era ma no pulire perché tuo papà no era un po' con semmoso sarei come a me era tuo papà allora era preciso cucinava tutto il giorno fuori a lavorare infatti che è molto giovane sì ma dico era come me preciso cucinava ma questo papà vabbè ma erano altri tempi amore altri altri tempi vabbè ragazzi suo papà era mattiniero abbiamo scoperto vabbè io mi faccio un bicchiere di latte che dice ve lo bevete insieme a me aspettate vabbè un bicchiere io come suo papà io ho scelto preciso che cucino infatti io mi sono alzato presto stamattina che ora erano ma alle 11 11 ragazzi perché ora io vengo a cucinare andandomi picchiere la pinnula sapete quindi in assenza di di yogurt da bere mi faccio un bicchiere di latte penso che va bene no papi nulla non lo so ci metto lo zucchero aspettate perché se mi alzo sono in mutabile e non è il caso quindi torno subito non ci faccio di caso ai miei capiti carumani mi leghi la tagliari capite vabbè perché poi ora tra poco c'è la serata di francesca quindi io devo essere meraviglioso va bene ragazzi non lo so cosa che cosa vi volete confrontare con mia stamattina perché già ho capito che io sono come il mio suocero buonanima scetto chi era mattiniero come a mia cucinava a buono come a mia scetto io come a mio suocero senza saperlo aspettate ragazzi che ha messo sia una ciota perché mi manca che se io mi alzo insieme a voi che voi mi vedete alzare e tornare vedete giustamente di mattina delle cose che possono no no meglio di no perché poi c'è mai dicevi chissù da lì sembra annunzio sui chiusi che mutagni tutta lì sceglie invece no io non voglio rovinare i matrimoni va bene detto questo ragazzi la giornata per me inizia adesso non so se per voi iniziata prima penso di no inizia adesso ci vediamo dopo nel corso della giornata perché sicuramente qualcosa accadrà a dopo come picchiare magari non arrivato